FABIO Fabio? Sì, ciao. Posso farti una domanda? Certo, falla pure. Sei un uomo o un topo? Cosa vuoi dire? Beh, Guy è un uomo perché non parla male alle spalle delle ragazze. Quindi cosa sei? Un uomo o un topo? Sono un uomo. Come fai a dire che ieri sera ti è andata di m***a per colpa mia? Solo perché a una tipa tu non piace. Io non ho affatto detto che è andata di m***a per colpa tua. Vi prego, vi prego, basta litigare, ragazzi. Oggi c'è il primo Paradise Game a cui partecipo con il mio nuovo partner e potrebbe finire male se lo fai incazzare. Non ho urlato ieri sera. No, stamattina, quando mi sono svegliato, ti ho sentita urlare di nuovo. Urlare? Mi hai sentito urlare stamattina, tesoro? Davvero, mi hai sentita urlare? Stamattina? No, grazie. Tu mi hai sentito urlare stamattina? Ti ho sentita urlare stamattina. Chantel, hai il talento di creare drammi. Mi sembra di essere in un c***o di circo. Forse era solo... Parlo a voce alta, sì. Solo perché è il suo modo di vivere. È un problema? Sono una persona cattiva perché parlo a voce alta e sono sempre molto espressiva quando parlo? E faccio questo e quell'altro? È un problema? Non devi più parlarmi alle spalle. Non prenderla sul personale. Non parlarne. No, non esagerare. Siete solo un branco di fighe... Urla! Io ho le p***e più grosse di voi. Tira fuori le p***e. Mostrali al mondo. Ottimo. Tempismo perfetto, Cole. Oh! No. Tira fuori le p***e. Non mi sembravo. Non mi sembravi. Non mi sembravi... No.